Con le vittorie di Turchia e Olanda rispettivamente contro Austria e Romania si è delineato il quadro dei quarti di finale Euro 2024. Le sfide in arrivo Spagna-Germania in programma venerdì 5 luglio alle 18, Portogallo-Francia venerdì 5 luglio alle 21, Inghilterra-Zistera sabato 6 luglio alle 18, Turchia-Olanda sabato 6 luglio alle 21.